Le ugre sono una forma poetica applicata al disegno. Come possiamo utilizzare le ombre non in maniera schematica, tecnica e in qualche modo troppo agita, ma utilizzare il teatro per far diventare le ombre il chiaroscuro qualcosa che copre magari oppure aiuta lo stile ma essenzialmente riesce a far percepire all'osservatore qualcosa di evocativo. La riccio che illuminava i personaggi dal basso per renderli più inquietanti. Devi usare il colore asciutto, ok? In questo modo se vuoi mettere delle luci molto forti usi il colore a corpo, ok? Poi sempre sul bordo, pennello pulito e sfumi, ok? Grazie per la visione! Grazie per la visione!